Ciao a tutti e benvenuti su Gossip Diva. Oggi vi portiamo dentro il dramma di Uomini e Donne, dove tensione e colpi di scena tengono tutti col fiato sospeso. La tensione è alle stelle tra Michele Longobardi e Amal nella puntata di Uomini e Donne del 17 ottobre. Dopo che la corteggiatrice ha accettato di uscire con Alessio, Michele decide di chiudere la loro frequentazione, dichiarando «Mi sono sentito preso in giro». Michele spiega la sua frustrazione. «Ho lasciato sedute persone che mi piacciono per uscire con te, ma non posso continuare così». Se vi è piaciuto il video e volete rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime notizie di Gossip, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale. Ogni vostro supporto ci aiuta a crescere. Amal, visibilmente sorpresa, risponde «Preso in giro per quale motivo?». La situazione si fa sempre più tesa quando il tronista afferma che durante le loro esterne lei sembrava distante e poco coinvolta. Ma le cose si complicano ulteriormente quando Amal attacca. «Se ci troviamo bene insieme, come mai ci vediamo così poco? Pensi che io sia un complemento d'arredo?». Alessio non si tira indietro e chiarisce. «Faccio le esterne per conoscere le persone. Sono qui apposta!». Cosa ne pensate di questo dramma amoroso? Michele ha fatto la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti!